Le vie del centro storico di Busseto sono state prese d'assalto da centinaia di buongostai, attirati dai profumi dei sapori del maiale in tavola, dalla testa alla coda, la manifestazione enogastronomica in programma nel weekend. Per il quarto anno il Circolo Pasini ha deciso di rendere omaggio a quello che, in questo lembo di bassa parmense, viene chiamato oro nero. La maestra dei norcini permette di realizzare prodotti dal gusto straordinario come culatelli, fiocchetti, coppe, spalle, strolghini, salami, ciccioli, attraverso una laboriosa tecnica tramandata nei secoli. Questi sono i primi due giorni di quest'anno, siamo ieri e oggi, noi ci aspettiamo anche più tardi, ora è un'ora abbastanza di stanca, ma ci aspettiamo molta gente. Quali sono i punti di forza di questa manifestazione? Noi siamo nella zona, si parla del maiale, maiale in tavola e gastronomia, e no gastronomia, punto di forza, noi pensiamo che sia anche Bussetto stessa, il richiamo è forte insomma, ecco per questo, quindi poi altre cose lungo la strada, ci sarà poi il country, il valley country, ci sarà una manifestazione nell'altra piazza, si farà il bucato come una volta con la ceneri. Grande protagonista della domenica di festa è stato il mariolone, un salume dal peso di un quintale offerto in degustazione ai presenti. Un maxi cotechino, è una cosa, un cotecone, un cotechino di un quintale circa, di una dimensione di 20 o 30 centimetri di diametro e lungo sarà, non so, un metro, 1,20, è una cosa molto, molto fuori dal normale, dal comune diciamo, ha una lunga sobollitura, si vorranno 8-10 ore, lo si cuoce là in laboratorio, poi lo si va a prendere, lo portano qui e viene caldo, ancora caldo distribuito. E' un cotechino, in realtà sarebbe una cosa chiamata in diretto tastus, cioè la testa. Oltre alla cultura del cibo e delle eccellenze gastronomiche, il maiale in tavola ha come obiettivo di far conoscere le bellezze di Busseto, terra ricca di storia, patria di Giuseppe Verdi e Giovannino Guareschi. Per coloro che si sono persi la prima parte della manifestazione, niente paura, il maiale in tavola con il suo carico di gusto tornerà puntuale il 6, 7 e 8 dicembre. E' un weekend lungo, sabato 6, 7 domenica e 8, che è lunedì, l'immacolata, quindi 6, 7, 8, tre giorni. Qui c'è un convegno, noi ci puntiamo anche per una questione qui nel Teatro Verdi, un convegno con il presidente dell'Accademia della Cucina Italiana, il professor Ballarini, il dottor Andrea Grenafini dell'Espresso e il lungostromico ufficiale della Gazzetta di Parma, il cabarettista Enrico Beruschi e Gidio Bandino, un giornalista, e sarà in convegno a tavola con Don Camillo, perché è Busseto, non è solo Giuseppe Verdi, è Giovannino Guareschi, cioè Pepponi e Don Camillo.